Sono 54 gli avvisi di conclusione indagini emessi dalla Procura di Catanzaro nell'ambito di una inchiesta condotta dalla Digos della Questura del Capoluogo Calabrese nel 2020 in pieno periodo pandemico a seguito di manifestazioni e cortei promossi da un movimento denominato Né Destra né Sinistra Giustizia Sociale Avanti Catanzaro. I reati contestati a vario titolo sono quelli di aver promosso in concorso delle riunioni in luogo pubblico aperto allo stesso senza dare preventivo avviso al questore, resistenza a un pubblico ufficiale, porto di armi o oggetto atto ad offendere, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. L'attività investigativa è stata avviata dopo il verificarsi di alcune iniziative di mobilitazione pubblicizzate sulle maggiori piattaforme social e svoltesi nel capoluogo di regione per protestare contro le politiche governative e le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.